Io mi sono trovato con una sinfonia, non ricordo se la 2, di Mahler, dove ho un inizio spettacolare. Un camion che arriva di notte in cima a una roccia a picco sul mare e scarica delle auto in mare. Queste auto cadono, le vediamo cadere nell'acqua fino a che arrivano sul fondo, vediamo un mare di auto buttate in acqua. A un certo punto, e qui fila perfettamente con la musica, comincia ad avere come dei fremiti. Con questi fremiti queste auto si riuniscono e creano una specie di mostro, di robot, che esce dall'acqua e diventa qualcosa di vivo. Questo si avvia verso la spiaggia e a questo punto la storia mi chiede di andare avanti con qualcosa di drammato. La musica diventa di una poesia e ho dovuto abbandonare tutto. Il robot si innamora. Eh ma era troppo presto per farli innamorare. L'ho sentita e risentita, non ce l'ho fatta ed era una storia fantastica.